Il GAC Unicità del Golfo, costituito dai comuni di Gela, Capofila, Vittoria, Scoglitti, Santa Croce Camerina, Acate, Licata, Putere e Lampedusa, non ci sta a diventare strumento politico per danneggiare i territori della fascia costiera del sud della Sicilia, perché distanti dai partiti che governano i dipartimenti regionali, come se la valutazione di atti tecnico-amministrativo possa essere influenzata da decisioni di ordine politico. Con una nota formale del 9 settembre scorso, il GAC di Gela ha presentato dunque una diffida e una richiesta di accesso agli atti al Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea. La diffida inviata concerne la richiesta di intervento in autotutela e la revisione dei punteggi attribuiti al GAC Unicità Golfo di Gela, mentre l'accesso agli atti consentirà di effettuare una verifica comparata dell'attribuzione dei punteggi ad altri GAC e dei requisiti di ammissibilità. La gradutoria pubblicata allo stato attuale, dice il sindaco di Gela, Domenico Insinese, presidente del gruppo di azione costiera, vede il GAC Unicità del Golfo ammissibile ma non finanziabile in relazione alla dotazione finanziaria disponibile pari a circa 17 milioni di euro, che la logica avrebbe dovuto immaginare con una distribuzione omogenea tra i 10 GAC ed invece ai funzionari della regione, e come al solito piace complicarsi e complicare la vita ai comuni, che versano già in notevole difficoltà proprio dovute alla inadeguata capacità di programmazione regionale. La diffida e l'accesso agli atti serviranno per constatare l'intero iter procedurale sin dalla fase istruttoria. È da rilevare, infatti, che il GAC Unicità del Golfo, da una comunicazione del 24 ottobre scorso, risultava già in posizione utile al finanziamento. Posizione ottenuta dall'intera valutazione progettuale effettuata, nonostante oggi le motivazioni adotte dal dirigente sulla presenza o meno di pescatori nel Consiglio di Amministrazione e alla promozione di impianti di acqua, cultura e trasformazione, sovvertono quanto stabilito nella valutazione eseguita dalla Commissione preposta. Il Dipartimento competente è stato diffidato dal Sindaco di Gela e in qualità di Presidente del GAC. Senza le opportune verifiche e l'adozione di provvedimenti tesi a ristabilire la giusta valutazione, non ci arrenderemo alla penalizzazione di un'economia su cui si basa l'area siciliana più pregiata nel settore della pesca e del turismo, da Lampedusa a Santa Croce, ha detto il sindaco messinese. Dall'amorimento, insomma, si potrebbe passare alle vie giudiziarie. I comuni che formano il GAC, Unicità del Golfo, sono sette e comprendono un territorio che mette assieme a oltre 200.000 abitanti, con quasi 200 barche presenti e 150 chilometri di costa. Si attende nei prossimi 10 giorni il riscontro ai dettagli della diffida.